Napoli non è sempre soltanto tacciata per la criminalità o per tutte le note negative che possono riguardare una grande metropoli come questa del Sud. Nel cinema e nella televisione sono importanti perché grazie a loro si può divulgare una positività, solo divulgare una speranza, forse posso sembrare eccessivo, però se noi riflettiamo anche sul punto che Napoli è una delle sedi più sfruttate per il cinema, pensate che il Dio di San Diego è stata Napoli la città più settata d'Italia, cioè la maggior parte dei sedi cinematografici, televisioni, per fiction, è stata Napoli, quindi una speranza per vedere Napoli nel futuro sempre più positiva ce l'ha, un invito a visitare Napoli e c'è bisogno di essere invitati, come si dice? Invitato può invitato, quindi siccome sono venuti quest'anno i numeri esalti non lo so ma sono proprio centinaia di migliaia di turisti, questi centinaia di migliaia di turisti sono rimasti positivamente colpiti dalle bellezze di Napoli, che si portassero gli amici, non dici che si portassero, si, perché è lingua napoletana, quindi si può dire, che si portassero gli amici, l'invitato può invitare, non lo aspettiamo.